Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video nel quale realizzeremo questo modulo che bisogna ripetere un certo numero di volte che poi va bene, vi farò sapere ci realizzeremo una porzione dei due davanti fino a una certa altezza, direi quella degli scalfi così come una certa porzione del dietro sempre si arresterà questa parte appunto ragno, no? all'altezza degli scalfi per poi proseguire con la rete del filet questo davanti misura circa 22 cm perché questo sarà il davanti della canottiera è un campione ma è già il davanti e se voi dovete aumentare e anche quando faremo i conti per il dietro della canottiera lasciate il ragno iniziale e il ragno finale e potete aumentare, anzi dovrete necessariamente aumentare andando ad aggiungere i ragni qua in mezzo in modo che l'inizio e la fine siano sempre uguali quello che vado a aumentare è questa porzione qui vi do giusto qualche nozione un pochino per rispolverare il filet ma non è un filet tradizionale cioè è un insieme di punto ragno e di rete filet quindi vi posso dire per aggerogolarvi nei calcoli che per vedere quante catenelle ad esempio si devono andare a fare per ottenere un certo numero di quadrettini qua sono 27 quadrettini quindi 27 per 3 fa 81 più 5 perché inizierò con un quadrettino vuoto fa 86 quindi noi adesso andiamo ad avviare 86 catenelle e come sappiamo tutti ormai il filet si compone di il quadrettino vuoto una maglia alta, due catenelle, una maglia alta saltando due catenelle di base per il quadrettino vuoto per quello pieno sono 4 maglie alte di cui la prima si fa sopra la maglia alta sottostante le altre due all'interno del quadrettino mi raccomando non sulle catenelle ho visto fare anche questo e no mi raccomando e l'ultima qui sull'altra maglia alta quindi quelle cose dove ci sono 3 maglie alte dove c'è una catenella qui è tutto ma non è filet i materiali da utilizzare per la canottiera sono un filato di cotone numero 12 io l'ho cercato bianco e quindi l'ho utilizzato bianco e una lamina di queste qui metalliche una lamella di queste qui metalliche ci sono di tutti i colori questa credo risalga agli anni 70 va bene però le vendono anche oggi anzi anche più belle forse che ne so e ci sono sia colorate ma ci sono anche trasparenti l'uncinetto è il numero 2,5 se qua vedete 1,56 queste cose qua mentre sto a lavorare non mi dite ah però c'hai truffato eccetera non è che sono io è che questi uncinetti che ho sono anche questi molto datati infatti vedete è rovinato qua è tutto ho dovuto anche limarlo un attimo qui perché c'era un po' rovinato ok e non corrisponde perché non so in che posto sia stato realizzato che sul 2 non entra quindi sul 2,5 ci va proprio un po' largo sul 2,25 ci va preciso però noi non è che abbiamo il 2,25 quindi direi la testa è uguale al 2,50 per fare questo campione utilizzerò solo il bianco perché quella lì costa un pochino a parte che vabbè apposta è degli anni 70 e quindi non ne la ritroverei però voglio dire non la sprechiamo anche perché non so fino a che punto sarà sufficiente per realizzare tutta la canottiera quindi adesso abbiamo detto 27 quadrettini 27 per 3 fa 81 più 5,86 andiamo a realizzare 86 catenelle io ne metto sempre qualcuna in più perché se mi sbaglio a contare almeno non arrivo qua alla fine senza catenelle poi si possono disfare successivamente quelle che abbiamo realizzato in più questo si fa quasi sempre non si fanno mai le catenelle precise rispetto ai quadretti anche se noi il conto abbiamo imparato come si fa sicuramente io le ho contate queste mentre chieravo perché so fare benissimo due cose in una non è vero e quindi adesso non mi conviene contarle le rifaccio eccole qui io ne ho realizzate 90 e così sto al sicuro adesso però per il primo quadrettino abbiamo detto no ci ricordiamo che bisogna contare 7 catenelle quindi 1,2,3,4,5,6,7 e andare sull'ottava con la prima maglia alta quindi qui e andiamo a fare la prima maglia alta ok e abbiamo realizzato in questo modo il primo quadrettino della rete filet poi facciamo 2 catenelle mettiamo il filo sull'uncinetto saltiamo 2 catenelle di base mi raccomando impariamo a contarle non qui ma contiamo 1 e 2 e sulla catenella successiva che è questa andiamo a mettere l'altra maglia alta in questo modo abbiamo ottenuto 2 quadrettini proseguiamo in questa maniera sempre contando 2 catenelle di base saltandole e andando sulla successiva a fare la maglia alta ed in tutto nel primo giro qui realizziamo 27 quadrettini ok questi sono i miei 27 quadrettini come vedete mi avanzano 4 catenelle 1,2,3,4 e quindi ne servivano 86 effettivamente il conto era fatto bene nel secondo giro vedete qua dobbiamo fare 4 quadretti vuoti uno pieno poi alternare 5 vuoti uno pieno 5 vuoti uno pieno 5 vuoti uno pieno per 3 volte 1,2,3 e poi finire con 4 quadretti vuoti ok qui non sciogli lingua oggi però è così allora per fare il quadretto vuoto all'inizio vi ricordate 5 catenelle perché 3 sostituiscono la prima maglia alta 2 sono quelle che devono stare tra una maglia alta e l'altra per cui in tutto 5 e poi si va a mettere la maglia alta sopra alla maglia alta del quadrettino e qui ripassiamo anche in questo caso un po' di nozioni di filet poi abbiamo detto che dobbiamo fare 4 per cui 1,2 ho fatto 2 catenelle e la maglia alta facciamo ancora 2 catenelle e poi qui sopra la maglia alta la maglia alta e sono 3 ok poi ancora 2 catenelle e qua ci mettiamo la maglia alta e questi sono 4 quadretti vuoti adesso ne dobbiamo fare uno pieno per cui la prima maglia alta ce l'abbiamo le altre 2 le mettiamo all'interno del quadretto non sulle catenelle ma nello spazio mi raccomando così e la quarta la mettiamo sopra la maglia alta quindi così e sono e questo è il quadretto pieno quindi adesso invece ripetiamo per 3 volte 5 vuoti e uno pieno il secondo giro termina con 4 quadretti vuoti abbiamo detto quindi queste sono le 2 catenelle poi andiamo a puntare l'uncinetto qui vediamo 2 catenelle sulla terza catenella no? così nel terzo giro invece noi dobbiamo cominciare a fare la porzione che riguarda proprio il ragnetto quindi noi facciamo 3 quadretti vuoti un quadretto pieno 5 catenelle un quadretto pieno per 1 2 3 volte e terminiamo con 3 quadretti vuoti comunque adesso facciamo 3 quadretti vuoti ok eccoli qui 3 quadretti vuoti adesso dobbiamo fare un quadretto pieno prima del quadretto pieno sottostante quindi 4 maglie alte 1 2 3 e 4 così poi dobbiamo fare 5 catenelle quindi 1 2 3 4 e 5 e poi l'altro quadretto pieno dopo il quadretto pieno sottostante quindi qui ci mettiamo la prima maglia alta poi le due maglie all'interno dello spazio le due maglie alte e poi sopra la maglia alta successiva l'altra maglia alta quindi il quadretto pieno eccolo qua il modulo da ripetere 3 quadretti vuoti 1 pieno 5 catenelle 1 pieno per 4 volte e poi terminiamo con 3 quadretti vuoti quindi 1 2 3 4 volte e poi terminiamo con 3 quadretti vuoti ok nel nel quarto giro noi dobbiamo andare a fare due quadretti vuoti 1 pieno 5 catenelle 1 maglia bassa al centro dell'archetto di 5 catenelle ancora 5 catenelle e un quadretto pieno poi facciamo sempre un quadretto vuoto e la stessa cosa 1 pieno 5 catenelle 1 maglia bassa al centro dell'archetto 5 catenelle e 1 pieno per 1 2 e 3 volte e poi terminiamo con 2 quadretti vuoti comunque ci troviamo i riferimenti sottostanti e quindi è facile adesso lo andiamo a fare per arrivare qui prima del quadretto pieno ci servono 2 quadretti vuoti quindi noi facciamo questo che è un quadretto vuoto e ancora un altro e il secondo quadretto vuoto poi qui siccome il lavoro procede in questa maniera ci dobbiamo fare un quadretto pieno quindi 4 maglie alte 1 2 3 e 4 poi da qui noi cominciamo a fare 5 catenelle quindi 1 2 3 4 5 poi mettiamo una maglia bassa all'interno dell'archetto non sulle catenelle così proprio all'interno dell'archetto ok e poi andiamo a fare altri 5 catenelle 2 3 4 e 5 e poi dobbiamo fare puntando qui perché il quadretto pieno qui un quadretto pieno appunto quindi quindi maglie alte 1 2 3 e 4 quindi senza tanti schemi andate a guardare il lavoro sottostante adesso infatti lo guardiamo bene noi dobbiamo andare a mettere vedete un quadretto pieno qui qui sopra quindi qui necessariamente ci andrà un quadretto vuoto per arrivare lì eccolo poi qui dobbiamo mettere il quadretto pieno quindi facciamo le 4 maglie alte poi dobbiamo metterci qua in mezzo quindi facciamo le 5 catenelle 2 3 4 e 5 mettiamo la maglia bassa al centro dell'archetto così ancora 5 catenelle 2 3 4 e 5 e il quadretto pieno va sopra questo qui per cui la prima maglia alta la mettiamo qui la prima appunto di 4 maglie alte quindi 1 2 3 e 4 ok procediamo sempre in questa maniera e alla fine ricordatevi deve finire come l'inizio quindi dobbiamo necessariamente finire con 2 quadretti vuoti perfetto siamo arrivati al quarto giro abbiamo terminato adesso dobbiamo fare il quinto per cui andiamo a vedere un attimo il quinto giro è il punto dove i ragnetti si vanno a unire tra di loro quindi la porzione in cui questa piramide qua questo triangolo finisce così con la parte più stretta per poi andarsi a riaprire ecco ricordate anche questo quindi dovrete andare a fare un quadretto pieno sopra quello vuoto sottostante allora iniziamo con un quadretto vuoto così come termineremo poi facciamo uno pieno 5 catenelle poi chi di voi ha fatto i ragnetti con me si ricorderà che per realizzarlo bisogna fare una maglia bassa prima della maglia bassa sottostante un'altra maglia bassa sopra la maglia bassa sottostante e un'altra maglia bassa dopo la maglia bassa sottostante altre 5 catenelle e come vi dicevo il quadretto pieno sopra a quello vuoto dopo aver fatto il primo quadrettino vuoto quindi e facciamolo questo quadrettino vuoto eccolo qua dobbiamo mettere un quadretto pieno qua ecco quindi le 4 maglie alte no e 4 poi facciamo 5 catenelle quindi 1 2 3 4 e 5 e come abbiamo detto mettiamo una maglia bassa prima della maglia bassa qui nell'archetto poi la seconda maglia bassa la mettiamo sopra alla maglia bassa sottostante ok e l'altra maglia bassa dopo la maglia bassa sottostante sempre nell'archetto di catenelle e poi continuiamo facendo 5 catenelle quindi 3 4 e 5 e andiamo a mettere il quadretto pieno qui dentro dentro il quadretto vuoto sottostante benissimo e continuiamo sempre in questo modo e andiamo poi vedrete qua a terminare perché qua sopra metteremo un quadretto pieno andremo a terminare il quinto giro con un quadretto vuoto così come l'abbiamo iniziato nel sesto giro che è questo noi dobbiamo chiudere e cominciare a chiudere questa seconda parte del triangolo e facciamo 2 quadretti vuoti poi all'interno delle 5 catenelle mettiamo il quadretto pieno facciamo 5 catenelle una maglia bassa sulla maglia bassa centrale ancora 5 catenelle una maglia alta quindi un quadretto pieno sulle catenelle ok e poi un quadretto vuoto a distanziare così come c'era un quadretto vuoto nel quarto giro ripetiamo praticamente la stessa cosa solo che qui avevamo il quadretto vuoto sottostante qua non c'è ci sono le catenelle per cui dobbiamo andare a ricreare lo spazio di un quadretto no sopra a queste catenelle adesso dobbiamo mettere quel quadretto pieno sopra le catenelle quindi ce l'andiamo a mettere la prima maglia alta ce l'abbiamo già per cui su queste catenelle noi dobbiamo mettere altre 3 maglie alte in tutto 4 1,2,3 e 4 e abbiamo ricreato e 4 e abbiamo ricreato un quadretto pieno ok poi facciamo 5 catenelle quindi 1,2,3 4,5 mettiamo la maglia bassa sopra la maglia bassa centrale per cui qui facciamo altre 5 catenelle 1,2,3 4,5 e ricreiamo lo spazio di un altro quadretto pieno cioè un quadretto pieno qui sopra le catenelle sottostanti quindi 1 una maglia alta 2 3 e poi sopra la maglia alta la quarta maglia alta ok qui si può spostare tranquillamente per cui ecco poi va tutto a posto poi mettiamo un quadretto vuoto qui come c'era nel quarto giro e facciamo la stessa cosa sopra l'altro ragnetto ovvero mettiamo un quadretto pieno qui 5 catenelle la maglia bassa sopra la maglia centrale 5 catenelle un quadretto pieno qui e un quadretto vuoto qui terminiamo il sesto giro con 2 quadretti vuoti nel settimo giro che è il penultimo noi andiamo ad iniziare con 3 quadretti vuoti poi andiamo a mettere come abbiamo fatto prima un quadretto pieno sopra le catenelle facciamo 2 catenelle per ricreare lo spazio del quadretto pieno e subito un altro quadretto pieno sopra le catenelle e poi 3 quadretti vuoti e poi ricominciamo un quadretto pieno 2 catenelle e un quadretto pieno 3 vuoti 1 pieno insomma sempre così fino alla fine terminare con 3 quadretti vuoti settimo giro quindi 3 quadretti vuoti abbiamo detto poi andiamo a mettere un quadretto pieno qui su queste catenelle quindi 4 maglie alte questa più altre 3 1 2 3 e 4 facciamo solamente 2 catenelle non ci interessiamo di quello che c'è sotto andiamo sulle altre catenelle a mettere un quadretto pieno quindi 1 2 3 e poi 4 ok e poi facciamo 3 quadretti vuoti per riportarci sopra queste catenelle dove dobbiamo mettere il quadretto pieno termineremo il settimo giro con 3 quadretti vuoti l'ultimo giro che è l'ottavo è esattamente identico al secondo per cui non lo andiamo a ripetere insieme dobbiamo fare 4 quadretti vuoti all'inizio un quadretto pieno poi 5 quadretti vuoti uno pieno per 3 volte 1 2 e 3 terminare con 4 quadretti vuoti il modulo il modulo da ripetere è questo qui o meglio bisogna iniziare così ok però poi successivamente noi per 9 volte quindi questa più altre 8 dobbiamo ripetere dal terzo all'ottavo giro quindi il primo e il secondo non li dobbiamo fare più perché in effetti vedete che l'ottavo e il secondo sono uguali quindi l'altro ragnetto deve partire subito da questi due quadrettini qui pertanto con il terzo giro quindi tutto uguale fin qui poi dal terzo all'ottavo una volta 2 3 fino a 9 volte in tutto compresa questa prima parte sia per il dietro che per il davanti quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 la direzione è questa qui di lavorazione 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 prima di iniziare lo scalfo delle maniche perfetto sia sui due davanti che sul dietro inoltre il dietro che è questo qua vabbè è inutile che ve lo faccio vedere perché tanto è enorme per cui perché nell'inquadratura non entra tutto i regnetti sono 8 1 2 3 4 5 6 7 e 8 ok in tutto i quadrettini sono 51 e quindi le catenelle da iniziare sono 158 51 per 3 fa 153 più 5 158 fatene 160 per sicurezza ok anche qui ripetete tutto fino ad arrivare qua sopra dove dobbiamo mettere gli scaffi delle maniche e quindi e quindi